Non so se si sente la mia nuova voce, fammi sentire la mia voce, soldo, come va, tutto bene? Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come cambiare la propria voce Grazie a voice mode, la nuova versione di voice mode ovviamente è veramente bellissima questa applicazione Quindi in questo caso tu vai sul sito che ti ho lasciato in descrizione, tu vai su provalo ora Quindi c'è la licenza gratuita e poi c'è quella a pagamento, tu fai scarica Una volta scaricato il setup ti chiederà di installarlo in una cartella, quindi in questo caso vai su voice mode setup Selezioni così la lingua Vabbè, voice mode è già installato, quindi in questo caso ti chiederà di installare 3 giga di voice mode in una cartella Quindi una volta installato non ci resta che aprirlo e configurarlo E adesso ti faccio vedere pure come configurarlo su Discord e su tutto il sistema dell'audio Quindi come puoi vedere questa è la licenza gratuita, quindi provalo ora Diceva il sito, quindi qui c'è scritto anche passa voice mode pro Come puoi vedere con 4 euro al mese Piano trimestrale e poi al debito ogni 3 mesi 12 euro Quindi non è niente male, tanto per divertirsi un po' con gli amici Oppure se ti interessa c'è solamente queste voci qua Quindi andiamo un attimo sulle impostazioni Io come input ho messo il mio microfono E come output ho messo le cuffie Le cuffie miei Razer, ne ho tanti dispositivi collegati al PC Quindi Se io adesso imposto su impostazioni audio Vado su input Metto la voce se vedo voice mode Eccolo qua Quindi in questo caso Inizierà a creare un nuovo dispositivo input E tu vai a selezionarlo Ok E ora ti faccio sentire anche la voce che cambia E anche su OBS Studio Mi basta solamente mettere il microfono voice mode Ora andiamo su voice box Metto il narratore Non so se si sente la mia nuova voce Fammi sentire la mia voce Solve Come va Tutto bene Su Discord invece Andiamo nelle Impostazioni Utente Voce Video Dispositivo Comunque ragazzi Non mi ero accorto che stavo ancora parlando con la voce da narratore Ovviamente come avete sentito Bisogna cambiare il microfono su Discord E poi Cambierà la vostra voce E riguardo alla riduzione del rumore Va tolta Se in questo caso c'è un'interferenza Oppure per esempio se vai qua sopra Io entro in un canale Eccolo qua Faccio riduzione del rumore E tolgo questo E poi fare un test per vedere se si sente bene o male Quindi ricapitolando Microfono voice mode Quindi quando vai a fare l'installazione Ti chiederà Metti il tuo microfono E metti le tue cuffie E poi dalla impostazione di voice mode Puoi decidere L'input del microfono E' alto parlando delle tue cuffie Se non va Allora Va fatto su impostazioni audio Qua sopra Io dal mio microfono Questo qua Con cui sto parlando Passo a questo Ma ovviamente Mi sentite con questo microfono Perché io l'ho impostato su Microfono Su OBS Quindi se invece faccio Voice mode di nuovo Si sente più pulita la voce Il narratore Il presidente Il presidente Quindi il presidente qua Sta parlando Se avete problemi Mi raccomando Scrivetemi sotto il video Che vi posso dare una mano Se ho saltato qualcosa Scrivete Sotto al video Oppure Mi interessa Nel Discord Così ti do Una mano Su come risolvere Queste cose Quindi Presidente Mi saluta Ciao